Cimiteri di rifiuti RAE e alluminio. A Castellammare i carabinieri della locale stazione insieme ai loro colleghi di quella forestale hanno effettuato un servizio a largo raggio volto al contrasto dell'inquinamento ambientale. All'esito dei controlli sono tre le persone denunciate. Uno di questi è il proprietario di un fondo di 100 metri quadrati in via Ripuaria. Il terreno è divenuto di fatto una discarica a cielo aperto. Un vero e proprio cimitero di lavatrici, frigoriferi ed altri elettrodomestici dismessi. Le altre due persone, invece, sono l'amministratore e il gestore di una società che avevano utilizzato un capannone di 300 metri quadrati nella stessa strada per il deposito di scarti di alluminio. Ad aggravare lo scempio, l'assenza di un corretto deflusso delle acque nella rete fognaria con i rifiuti esposti alle intemperie. Entrambe le aree, a pochi metri dal fiume Sarno, sottoposte a sequestro.